entrate e uscite dello Stato con un avanzo primario, cioè tolte le spese per gli interessi del nostro debito pubblico, l'Italia in 21 anni ha sempre guadagnato dei soldi, in tutto sono 600 miliardi di euro, noi l'anno scorso abbiamo avuto un avanzo primario di 36 miliardi di euro, quest'anno ne avremo 42, l'anno prossimo 50, quindi abbiamo sempre pagato i debito pubblico, siamo affidabilissimi, abbiamo sempre pagato i nostri debiti e siamo i campioni d'Europa nell'avanzo primario, ci sono paesi che sono in disavanzo, la Germania in 22 anni ha avuto un avanzo privario di 300 miliardi, la metà del nostro, se tutti gli altri paesi se avessero dovuto pagare gli interessi che paga l'Italia, certo uno dice il debito è vostro, ok? Però ci hanno anche fatto costruito lo spread a 600 punti, ce ne hanno fatte di tutti i colori, allora forse sarebbe il caso che l'Europa... Se qualcuno lei dice ha il coraggio di andare oltre perché poi siamo in grado di dimostrare che non succede niente... Allora uno si domanda perché ci sono altri paesi, la Spagna, la Francia, persino l'Olanda, gli olandesi hanno un deficit PIL superiore al 4%, la Gran Bretagna viaggia sul 6-7%, cioè vuol dire perché solo i poveri italiani devono morire di rigore e ci vogliono fare morire economicamente? Quindi adesso questo sarebbe anche d'accordo di dire vediamo se ha il coraggio di farlo attraverso quella strada potrebbe anche riuscirci. Bisogna trovare dei modi comunque perché l'atteggiamento dell'Europa verso il nostro paese cambi, se no davvero come diceva prima Mariani, i negozi chiudono, le imprese chiudono e il lavoro non c'è perché di solo tasse e di rigore muore qualsiasi paese al mondo. A proposito di imprese, le do subito la parola perché ci hanno messo in linea Nicola Alberta, purtroppo abbiamo dei tempi stretti Nicola ma sempre diamo voce alla situazione Micron che stiamo seguendo da tempo, buonasera. Sì, buonasera. Ecco, non ci sono buone novità, anzi c'è in vista uno sciopero il 19 marzo, è corretto? Sì, in vista uno sciopero noi abbiamo proclamato otto ore di sciopero in tutto il gruppo, poi in alcune sedi si terrà il 19 marzo, in altre in momenti nei giorni immediatamente successivi. Perché l'azienda ha confermato i licenziamenti, giusto? Perché il 19 marzo si tiene l'altro incontro e l'incontro fatto ieri sostanzialmente l'azienda pur avendo fatto piccole aperture su un periodo di cassa integrazione o su ricollocazione di lavoratori in esubero. In altre sedi, parliamo di Boise, in Idaco, in America, di Singapore, tanto per capirci in termini di cosa significa ricollocazione per l'azienda, ha sostanzialmente confermato l'esigenza da parte loro come gruppo multinazionale di pervenire a chiudere la procedura di mobilità che significa licenziamenti. Certo, e purtroppo noi abbiamo sempre dato voce e oggi non abbiamo parole, speriamo, anche se poi questa parola sta diventando pesante, certo, di poterci... Noi continueremo a insistere nei confronti del governo perché qui stiamo parlando di un settore strategico che è la microelettronica perché ci sia una pressione diretta di tipo politico nei confronti della multinazionale perché vogliamo preservare le professionalità e preservare l'occupazione nei vari territori. Grazie Alberta, purtroppo posso solo dirle ci riaggiorniamo e diamo voci sempre al vostro percorso. Mi spiace, buona serata, grazie. La ringrazio, buonasera. Buonasera. Allora, io volevo solamente aggiungere una cosa. Prego Mariani. Prego ha tracciato una linea molto determinata. Cioè la linea di dire perché l'Europa ce l'ha con l'Italia. Primo perché in questi ultimi anni abbiamo avuto un governo molto debole. Parliamoci chiaro. Cioè non abbiamo avuto governi di grande capacità politica di andare in Europa e dire la... Mantenere col polso ma... Ma più che altro non posso dire ma noi siamo i ragazzini di serie Z, non so, vi diamo i 18 miliardi, paghiamo come la Francia, paghiamo come la Germania, riceviamo in cambio niente, abbiamo le coste che sono aperte a tutto il mondo quindi sbarcano e quindi ci costano nero di Dio. Questa è Europa che tutti vogliono venire in Europa e ci usano noi. Cioè nessuno politicamente ha avuto la capacità e con un partito dietro che dava forza all'Italia. Poi abbiamo un'altra cosa, ma fa gola alla Germania, fa gola, anzi la vogliono far morire ai francesi, fa gola all'Italia. Abbiamo le imprese migliori che in tutto il mondo ci invidiano, abbiamo l'ENI, abbiamo la FIM meccanica, abbiamo i prodotti del mobile, del tessuto, dell'azienda tecnologica, ma stiamo scherzando, noi abbiamo delle aziende meravigliose in Italia. Purtroppo in un momento di crisi, chiamiamola creata come forse è stata creata, dove ci hanno fatto balzare finanziariamente il nostro debito pubblico degli interessi, agli interessi folli. I europei sarebbero riusciti a sopportare una roba come questa. Gli interessi folli, purtroppo a questo punto ci hanno preso per il collo, come si dice, perché io non sono un economista. E se Renzi avrebbe... E quel collo si sta facendo morire lentamente, perché finché non vendremo alcune aziende di partecipazione statali o del tesoro a qualcuno di loro, cioè che sono aziende, il cosiddetto fiore e l'occhiello, ma stiamo scherzando. Noi abbiamo aziende meravigliose. Appena ritornata una tua collega che ha fatto il giro in, non so se, con Leni, che ha fatto un reportage. Ha detto che all'estero abbiamo di quelle cose meravigliose. Infatti, targa d'Italia. C'è qualcosa stupende, ma non c'è mica bisogno di dire, la Finmeccanica è il nostro fiore e l'occhiello con le proprie aziende, negli armamenti, nel parte tecnologica. E questo fanno gola, perché dà un fastidio alle commesse internazionali, dà un fastidio ai tedeschi, dà un fastidio ai francesi e loro ci vogliono portare. Quindi, o noi in Europa abbiamo un gruppo di deputati che alza la voce, ma non alza la voce solamente per andare a fare le sceneggiate, ma la voce intesa che rappresentano politicamente e industrialmente l'Italia vera, se no non usciremo da questa cosa. Allora lasciamo la merca che vada fuori lei dall'euro. Può essere che Renzi abbia giocato queste carte, mettendoci la faccia, mettendo dei tempi così breve perché abbia già questo tipo di percorso in testa, l'ha anche dichiarato, non prenderemo i compiti a casa, potrebbe essere una strada. Beh, non credo che gli italiani si torcerebbero contro questo tipo di azione. Secondo me una delle sue strade è questa qua. Perché insomma, vedi Merkel, come diceva Mariani, potrebbe essere. Potrebbe avere una sponda nell'America, perché in qualche modo l'America in questa partita europea potrebbe stare dalla nostra parte, perché sappiamo che anche l'America è uscita dai disastri che ha provocato facendoci pagare il conto. Unicredit. Facendoci pagare il conto. Si vede. Dovrà l'Europa anche riflettere su un'altra cosa, cioè non può avere un cambio suicida euro-dollaro vicino a 1,40, cioè è un'altra cosa insopportabile per l'Europa. Cioè l'Europa dovrebbe cominciare a occuparsi seriamente delle cose vere che fanno ripartire questo l'Europa, non soltanto interessi di bottega di alcuni stati che vengono coltivati a sfavore degli altri, in questo caso per esempio a sfavore dell'Italia. Cioè è un'Europa che deve cambiare assolutamente passo e tenendo conto il valido che gli altri giocano anche con le carte, cioè un po' sulle tre tavolette, perché l'America, perché si è ripresa? Perché hanno stampato miliardi e miliardi di dollari. Bravo, eccezzi. Il Giappone, perché adesso si è ripreso, tutte le notti stampa miliardi e miliardi di ieri. Per cui potrebbe essere che come lo dice lei qualcuno... Noi non sappiamo niente e dobbiamo solo pagare tassi. Ma anche l'Inghilterra ha stampato, 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 stampato. E pretendono che noi ci riprendiamo senza stampare niente e facendoci pagare lo spread e è un mare di tasti. E' un mare di tasti. E' impossibile. Potrebbe essere questa la carta che ha nascosta nella manica, il famoso asso nella manica Renzi, ma speriamo potrebbe. Però da solo butterà le carte sul tavolo, si alzerà e dirà non mi avete fatto fare niente, farà questa sceneggiata. Speriamo di no. Devo dire che Luigi mi ha tranquillizzato un po' l'italiano e non più l'anello al naso. Questo è molto importante, vuol dire che l'italiano comincia a riflettere. Complimenti Luigi. Quindi torniamo a dire 026884230 perché per quanto poco serva può servire a tanto anche sentire la voce della gente. Vero? Grazie. Grazie a Tiziano Mariani, imprenditore. Grazie a Chille Perego, capo servizio economia e finanza di IQN. Buon lavoro. Grazie a voi. Ma ci ha dedicato tempo e quindi siamo molto contenti. Grazie anche a Tiziano Mariani per noi, le notizie dall'Italia e dal mondo e poi di nuovo in diretta fino alle 20 insieme. Pane al pane, in diretta su Radio Lombardia, torna tra poco. Pane al pane, Lombardia, news, non ci fermiamo mai. Le notizie.